Sì, qui torno di controllo, sono in linea. Sì, ti ascolto. Torno di controllo, sì, gentile. Dove rimane via Cantore? Via Cantore? Ma su quale pista sei? Ma quale pista? Io sto qui sperto su Ad Angeziale. Polizia, vengo da Roma, essi buono, va. Dai, maestro, apri, lo so che sei lì. Non fare il furbo a scappare dalla finestra, la casa è circondata. Vuoi fare il duro? Hai trovato quello giusto? Maledetto! Adesso ti ammazzo! Guarda che sono armato anch'io, eh! E se sparo non sbaglio! Quindi sii prudente! Se l'ho davvero la pistola. Solo che momentaneamente è addosso a un po' di disordine. Se la trovo sono cazzi. Dov'è? Dov'è? Cosa ci fai, Giubbi? Porca puttana! Ma come io ti vengo a salvare la vita e tu tecazzi pure? Guarda che me la stavo cavando bene anche da solo. Il mobbia mi racconta come lo tenivi in pugno. Dai, Rambo, esci fuori. Tu sta fermo, non temo che è brutto, delinquente, assassino. Ma chi è assassino? Questo è un falsario? Ma quale falsario? Questo qui ha ammazzato un amico mio. No, no, non sono stato io, te lo giuro. È stato Carlos, il colombiano, te lo giuro. Carlos. Sì, se non mi credi controlla il calibro della mia pistola. È una 38. Hai visto? Quella di Carlos è una 45. E non lo sta? E non lo sta! Se gli metti la pistola in bocca come fa rispondere? Oh, ma tu se vuoi sapere con chi sai? Io se gliela metto in bocca questo qua non lo dice. Non lo sta, Carlos, non lo sta! Non lo so, non lo sa nessuno, è un pezzo grosso, non vuole farsi beccare. Ah, sì? Però se mi lasci andare ti posso dare una dritta. Che dritta? Un numero di telefono. De Carlos? No, della sua donna. L'ho imparato in macchina, a forza di vederlo fare. 45 82 76. Donna Magenta. Segna. 45 82 76. Bravo, Ciccio. Vai, vai. Vai, vai. Vai. E guarda...